ciao a tutti amici e benvenuti alla bianco auto oggi vi voglio presentare audi a3 2150 cavalli nella versione sport con un colore molto particolare molto bello che si chiama grigio nano metallizzato versione sport del aprile 2018 con solo 29 mila chilometri fare allo seno sensori parcheggio davanti e dietro vetri posteriori oscurati pacchetto cromature barre al tetto cromate internamente abbiamo cruise control clima automatico sedili riscaldati volante sportivo multifunzione navigatore satellitare mmi plus con l'audiconnet il bluetooth media interface e il cruscotto digitale col navigatore dentro che si chiama virtual cockpit vettura che la proponiamo a un prezzo strepitoso di 25.500 euro più spese di matricolazione messi in strada con 24 mesi di garanzia inclusi nel prezzo ovviamente la vettura la trovate a motta di costiglio le d'asti telefono 0 141 96 92 14 sito internet bianco auto punto it inoltre vi volevo ricordare che su queste vetture a chi fosse interessato è possibile accedere a dei finanziamenti ad un tasso agevolato del 2 95 che pubblicizziamo anche sul nostro sito che si chiama formula gold però ci telefonate ne parliamo vediamo se vi interessa vi faccio un preventivo senza così gratuito venite a trovarci a motta di costiglio le dasti vi saluto e alla prossima ciao a tutti